PAPÀ Dammi a sentire, va nella stanza accanto sotto il letto. Dimmi quando sei lì. Ci sono. Ascolta, la parte successiva è molto importante. Ti prenderanno. Io non so chi siete. Non so cosa volete. Se cercate un riscatto sappiate che non possiedo denaro, però possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera e che fanno di me un incubo per gente come voi. Dove sono? Se lasciate andare mia figlia adesso la storia finisce qui. Hai 96 ore. Oppure? Non la rivedrai. No! Ma se non lo farete, io vi cercherò. Dov'è? Vi troverò. E vi ucciderò. Buona fortuna.